E' morto Randy Meissner, se ne va a 77 anni di età, chi era costui era il cofondatore della famosissima rock band degli Eagles, era un cantante ma anche un bassista, l'ha annunciato la band stessa facendo sapere che gli Eagles sono molto tristi e rammaricati nell'annunciare la perdita di Randy Meissner che è morto la scorsa notte il 26 luglio precisamente a 77 anni di età a Los Angeles, in chi sta? Che matti aveva e soffriva? Complicazioni dovute alla bronco-pneumatia cronica o struttiva, la BPCO, rende la parte integrante, fulcro, nascente o meglio completo degli Eagles e fu molto determinante agli inizi della band in questione quando iniziò a prendere pian piano piede. Una carriera straordinaria, fantastica, unica nel suo genere, quella di Meissner che contribui a delle canzoni, o meglio le canzoni più belle, iconiche degli Eagles, che sono riuscite veramente ad essere chiave moderna, chiave autentica e concreta di una musica meravigliosa, straordinaria e convincente. Purtroppo dunque se ne va il grande Randy Meissner, che tu possa riposare in pace caro Randy, ciao!